Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi sfogliamo insieme Burda Style di dicembre 2023. L'ho già guardato e sono troppo felice di questo numero perché è bellissimo, ma andiamo subito a sfogliarlo insieme. Abbiamo questo bellissimo abito che è il numero 104, taglio dalla 36 alla 44, le 3 palline su 4 di difficoltà. Questo è stato realizzato in due tessuti, il pizzo nero che spicca sul tessuto di raso rosso che si trova sotto, bellissimo. Mi piace moltissimo l'idea di fare gli abiti così con il pizzo, è sotto un altro tipo di tessuto, tagliato in vita e ha questa sorta di inserto con dei profili che mettono in evidenza la vita. In questo caso è stato realizzato con il pizzo, quindi nelle maniche risulta trasparente, però noi possiamo utilizzare anche un altro tipo di tessuto. Rimane svasato, possiamo anche accorciarlo se eventualmente non ci piace così lungo, quindi le modifiche che possiamo fare sono queste. Lo stesso per quanto riguarda il vestito, lo possiamo trasformare in blusa, tagliando a livello del bacino e lasciandolo così. Quindi lo possiamo realizzare o tutto in pizzo, oppure in un tessuto di raso, tutto di raso e crearci magari non un vestito ma magari una blusa. Una shirt numero 108A, taglia dalla 36 alla 48, ha due pallini su 4 di difficoltà ed è un modello che arriva fino alla taglia 48. E' molto molto bello come modello perché possiamo vedere dal figurino, possiamo vedere che ha il collo alto, anche se è un collo alto morbido, ovviamente possiamo modificarlo. Io per esempio la voglio fare questa maglia ma modificherò il collo. Mi piacciono molto le maniche invece che rimangono larghe, qua sbuffo e con i polsini. Queste le lascio così, sono molto belle. Quello che modificherò è semplicemente il collo. L'idea geniale è quella di aver applicato questo pizzo. Lo possiamo trovare anche questi inserti di pizzo già pronti. Magari giù ti lascio, se li trovo, il link per andarli a comprare per esempio su Amazon. Che impreziosiscono moltissimo la maglia. Oppure se abbiamo del tessuto di macramè possiamo ritagliare le parti e farci appunto uno scollo particolare come questo. In questo caso potremmo modificarlo anche eliminando il collo alto se non ci piace e verrebbe una maglia come vediamo con lo scollo tondo. Bella anche l'idea di crearci una maglia senza il collo alto, quindi con il collo tondo. Si può utilizzare lo stesso modello per farne due diverse tra l'altro. Qui abbiamo due giacche molto molto belle. Le giacche le vediamo qui. Sono la giacca numero 111 taglia dalla 36 alla 44 a 3 pallini di difficoltà. La giacca di cui sto parlando è questa che vediamo qui. Questa che vediamo qui che è a 3 pallini su 4 di difficoltà realizzati con dettagli super sartoriali. Ampie maniche a kimono ricadono formando morbide pieghe. E il colletto al listino resta leggermente aperto. Non mi piace molto come modello proprio. Quello che preferisco di più invece è questo. E ci sto facendo anche un pensierino. Mi piace molto anche con questi alamari. È la giacca numero 101 taglia dalla 36 alla 48 a 3 pallini su 4 di difficoltà. Ed è un modello che arriva fino alla taglia 48. Questa è stata realizzata con un tessuto jacquard ma si può utilizzare anche un altro tipo di tessuto perché il modello come vediamo è veramente molto molto carino. Mi piace l'idea anche del colletto con gli alamari. Mi piacciono molto. Mi piace molto anche la linea. Qui in questa pagina invece abbiamo questo bellissimo abito che è l'abito numero 112. Va dalla teglia 36 alla 44 a 2 pallini su 4 di difficoltà. È un abito molto elegante, molto bello. Rimane dritto, scollatura alla Carmen con volant e sceglie un origine velluto a coste stampato. Si può binare con una cintura. Mi piace molto l'idea di una cintura a contrasto in questo caso. Anche qui possiamo utilizzare del velluto elasticizzato. Quindi bisogna utilizzare solo e unicamente tessuti elasticizzati. e si può utilizzare anche per fare una maglia facendolo o più corto se non ci piace di questa lunghezza oppure tagliarlo a livello del bacino per creare una maglia. Anche il volant lo possiamo mettere o non mettere. Quindi possiamo utilizzare la parte della davanti, del sopra, di sopra. Lasciarlo così senza però il volant. In questa pagina invece abbiamo l'abito numero 113, taglia dalla 36 a 44, 3 pallini su 4 di difficoltà. Arriva fino alla caviglia, quindi è bello bello lungo. Come vediamo dal modello, è caratterizzato da volant sia nell'orlo, quindi nell'orlo che nelle maniche. Maniche se ci sembrano topo possiamo eliminarle, quindi non farle così larghe, ma fare delle maniche più semplici oppure eliminare i volant e quindi fare solamente una manica. Magari più lunga però semplice. Ecco, queste sono le modifiche che potrebbero essere fatte. È tagliato in vita, si può abbellire con una cintura, drappeggiato nel punto vita. Anche in questo caso si può fare più corto, si può, se ci piace, magari l'idea delle maniche, farlo come maglia, come casacca, quindi utilizzarlo in questo modo. In questa pagina abbiamo questo bellissimo abito, che è uno degli abiti che mi ha colpito di più, soprattutto per quanto riguarda la parte del sopra che farò. Cioè lo faccio sicuramente perché è un modello che stavo aspettando da tempo. Era una maglia che io avevo quando ero piccola e ho adorato, e poi non ne ho più trovato, o comunque non mi sono più cucita, non mi sono mai cucita un abito così. Comunque con questa parte superiore, con l'incrocio. Ed era numero 102, la taglia dalla 36 alla 44, 2 polini su 4 di difficoltà. È stato realizzato in jersey, il drappeggio sul fianco è una sua caratteristica, e la scollatura incrociata è esalta il decoltè. Sì, molto bella, hai dei lits nella parte del dietro. Ha questa caratteristica di avere l'orlo che parte dalla gamba e arriva all'orlo di sbieco, asimmetrico. A me non piacciono queste asimmetrie, però eventualmente, se non piacciono neanche a te, puoi modificare il cartamodello, farlo lungo, senza lo spacco, oppure fare come farò io, che farò una maglia al bacino, a lunghezza al bacino. Bisogna utilizzare ovviamente solo e unicamente i tessuti elasticizzati. Abbiamo una blusa, che è la numero 105, caratterizzata da queste maniche molto molto particolari con i volant, e arricchita da un grande fiore applicato come spilla. Ho visto che i fiori si usano moltissimi, applicati come spilla, ed è impreziosita da questa fusciacca, che possiamo ovviamente farci a nostro piacimento per mettere in evidenza la vita. Abbiamo il vestito, lo vediamo qua, l'abito numero 104CA, taglia dalla 36 alla 44, tre pallini su quattro di difficoltà, e un abito dalla linea morbida. È tagliato in vita, ha delle pants nella parte del dietro, è tagliato nella parte del dietro perché ha la cerniera lampo invisibile, ha il collo abbastanza, diciamo, accollato, le maniche a giro, e rimane avvitato. Diciamo, il modello mi piace tantissimo, rimane lungo, ma noi sappiamo che se vogliamo possiamo farlo anche più corto, oppure addirittura più lungo, ed è stato realizzato in un tessuto di viscosa. Mentre in questa pagina possiamo ammirare questa bellissima donna, che è la numero 109, taglia dalla 36 alla 44, due pallini su quattro di difficoltà. È stata realizzata in tessuto operato da una mano consistente, quindi i tessuti che puoi utilizzare sono solo tessuti che devono avere un certo peso, non devono essere troppo leggeri, perché, per esempio, il taffeta andrebbe benissimo, perché deve rimanere anche un pochettino rigida, in modo tale che ottenga questa forma un po' a campana. La zip è nel centro del dietro. Qui abbiamo una sorta di scuola di cucito per fare gli alamari, molto interessante, tra l'altro come cosa, magari mi posso anche cimentare se non dovessi trovarli quelli che mi piacciono. Qui abbiamo invece un vestito, un tubino numero 128, che va dalla taglia 36 alla 48, due palline su quattro di difficoltà, gli che disegnano il corpino. Allora, è caratterizzato da, vediamolo nel dettaglio, da questi tagli nel corpino. È tagliato anche nella parte centrale, sia nel davanti che nel dietro, e ha questi tagli sia nel davanti che nella parte di dietro, che possono essere utilizzati anche facendo, possiamo utilizzare dei tessuti di colore diverso, di struttura diversa. Ovviamente devono essere tutti tessuti elasticizzati, perché è stato realizzato in jersey, quindi mi raccomando, sempre tessuti elasticizzati. La zip è inserita nel centro del dietro. Abito numero 114B, l'abbiamo già visto prima, va dalla taglia 36 alla 44, ha tre palline su quattro di difficoltà, ed è caratterizzata da un drappeggio morbido nel punto vita. Quindi lo vediamo qui un po' il drappeggio. È tagliato nella parte di dietro con il ceneralampo, ha delle pence nella parte di dietro, e delle pence, diciamo, a livello del seno. Ha le maniche a giro, chiuse da piccoli bottoni gioiello, che vediamo qua. L'usa numero 106, che vediamo qua, va dalla 36 alla 44, dopo lì in su quattro, un modello intramontabile, realizzato in raso, dal tocco frivolo, nel colletto diplomatico, quindi un colletto che rimane piccolino. Ha le maniche con dei pulsini con elastico, è realizzato in raso di viscosa, le stoffe consigliate sono stoffe per bluse. Pantaloni, che vediamo qui, sono il numero 120, le taglie vanno dalla 36 alla 44, tra i palini su quattro. Pantaloni floreali, ovviamente in questo caso è stato utilizzato un tessuto floreale, ma noi possiamo utilizzare un tessuto anche dinta unita, o del colore, dei colori e delle fantasie che più ci piacciono. Sono carattivizzati da Yorri a sacchetto, che a me non piacciono, devo dire la verità, perché secondo me tendono ad abbassare la figura, e a far risultare le gambe più corte, quindi non mi piace molto. Però si possono indossare anche senza questa cintura, quindi se ti piace il modello, lo puoi tranquillamente indossare, anche senza questa parte, insomma, che stringe. Cintura in vita, compatta, bottone, tasche nella parte del dietro, mentre qui abbiamo un abito che mi piace moltissimo, è l'abito numero 115, taglia 36, 44, due palini su quattro, e a taglio dritto. E quindi, diciamo che non è tanto difficile, perché essendo dritto è semplice, arricchito da questa sciarpa, questa sciarpa che, ecco, nel figurino forse si vede meglio, ha questa parte, cucita nello scollo del davanti, che si avvolge, diciamo, nella schiena, lasciando però scoperta l'ampia scollatura del dietro, che vediamo qua, una bella scollatura nel dietro, qua vediamo il tubino nella sua bellezza e semplicità, caratterizzato anche da un fushak che ne evidenzia la vita, realizzata nello stesso tessuto dell'abito, ma noi possiamo realizzarla anche di un altro colore. Pantaloni particolarissimi sono, i pantoni C217A, taglia dalla 36 alla 48 a due palini su quattro, modelli fino alla taglia 48, sono a zampa, tagliati a livello del ginocchio e vanno ad allargarsi. Se ti piacciono più larghi, li puoi allargare ancora di più. Se ti piacciono ancora più a zampa, come possiamo vedere senza esagerare, se ti piacciono più a zampa, puoi modificare il cartamodello. Cardigan numero 118, taglia 36 e 44 a due palini su quattro. È stato realizzato un tessuto di maglia stampato. Mi piace molto questo cardigan, mi sta venendo voglia di... siccome io ho tanti tessuti di maglia, non so mai che cosa farne. E in effetti potrei realizzare questo. Mi piace molto l'idea, molto è dritto, scollo a punto e bottenatura nel centro davanti. Mi piace molto. Potrei pensare di farlo. Mi piace molto è anche abbinato col collo alto, io adoro i colli alti, i colli alti. E il modello facile, che mi piace tantissimo, è questa gonna che vediamo qui. E come possiamo vedere anche dal figurino, è una gonna semplicissima, perché ha l'elastico in vita. La numero 119, dalla 36 a 44, infatti, modello Easy, un pallino di difficoltà. Comoda, facile da realizzare e abbinare. Questa la voglio fare, assolutamente, anche perché voglio fare una gonna semplicissima per le super super principianti. Cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti. Ovviamente la possiamo fare anche più corta, oppure, volendo anche più lunga. È stata realizzata in maglia. Comunque devono essere utilizzati tutti i tessuti elasticizzati per fare le gonne così, probabilmente la faremo insieme. Capotto numero 110 è a quattro palline. È difficile, i capotti sono difficili, anche se qui, Burda ci viene incontro con il modello scuola di cucito. Presenta modelli, presenta dettagli di alta sartoria, lo sprone tagliato insieme alle maniche, il dietro composto da più parti, insomma, non è facile. Osservando il figurino, possiamo proprio vedere che non è di facile realizzazione. Rimane lungo, come si usa quest'anno, ed è veramente molto molto bello anche il tessuto che è stato utilizzato. Qui ritorniamo alla maglia che mi piace, che prima abbiamo visto come vestito, qua lo vediamo come maglia. La scirte numero 103, taglia 36-44, due pallini, pieghe, drappeggi, quindi è drappeggiato sia nella parte del davanti qua, cioè dei drappeggi, drappeggi anche nel fianco, che possiamo anche eliminare se non ci piacciono. Io non me li farò con i drappeggi, perché tendo a avere un po' di pancetta, fianchi, diciamo, ben evidenti, quindi questo creerebbe un ulteriore volume. Mi piace molto l'idea di averla incrociata così sul davanti e come possiamo vedere, avendola realizzata in jersey, che è di maglia, lo possiamo utilizzare proprio per fare un maglioncino e infatti è stato abbinato ad una camicia. Io lo voglio fare per indossarlo senza camicia. Bellissimo, questo lo faccio al 100%. Mi piace molto anche questo abito, che però a me sta male, perché rimane dritto, è un po' a sacco. Questo è un abito che starà molto bene a chi ha un fisico a mela, a chi ha un fisico a rettangolo, anche se è un modello classico. Io l'adoro, mi piace indossato, ma a me sta malissimo. La caratteristica è che è tagliato in vita, come possiamo vedere nel modello, è tagliato in vita, poi è tagliato anche nella parte centrale della gonna, sia del davanti che del dietro, ha le pence nel seno, uno scollo tondo, e poi ha le maniche accorciate, vabbè, sono più corte del normale, e lunghezza al ginocchio. Si presta a molta personalizzazione questo tipo di modello, e lo vediamo così. Qua abbiamo il cappotto, ecco qui, se abbiamo paura, abbiamo tutto spiegato, possiamo vedere qui. Qui abbiamo la moda uomo, che mi chiedete spesso, ma non c'è uomo, moda uomo, moda uomo. Ecco qua, winter basic. Abbiamo questo, che è un cardigan, numero 129, taglia 48, 56 a due pallini, quindi non è neanche difficile. Ha la cerniera a lampo, nella parte del davanti, realizzato in un tessuto di maglia, con profili in pelle, quindi questi sono profili in pelle, vediamoli da vicino, sono profilato in pelle, con la cerniera, è stato realizzato appunto in maglia. Lo possiamo realizzare anche col pile, volendo. Qui torniamo alle donne, e vediamo i pantaloni, che vediamo qua, che sono i 117B, che siamo i pantaloni, che abbiamo visto anche prima, realizzati in finta pelle, stanno bene nei look sportivi, una blusa elegante e un blazer, sono leggermente svasati all'orto, con tagli all'altezza del ginocchio, abbinati alla K, che vediamo qui, eccola qui la K, è la numero 112, taglia 36, 44, a tre pallini su quattro, tessuto trapuntato, e ampia K con linea trapezio, quindi andiamo a guardare il figurino, la linea trapezio indossata, starà così, non è di mio gusto, cioè non sono i miei gusti, ecco, è nel senso che, tra l'altro a me, con fisico a clisidra, mi starebbe malissimo, il centro davanti, ha una chiusura con la zip, qui abbiamo la minigonna, molto molto carina, particolare, minigonna numero 127, tagliata dalla 36, la 44, due pallini su quattro, calda, perché è stata realizzata, in una stoffa trapuntata, mi raccomando, queste stoffe trapuntate, aumentano la figura, quindi tendono a ingrossare, quindi occhio, la particolarità, sono quei spacchi laterali, creati da questa zip, che chiaramente possiamo fare, o non fare, è elastico in vita, qui vediamo il bluson, che è il numero 127, tagliata 36, 44, due pallini su quattro, tessuto, tradizzo è un tessuto di pelliccia, è una sorta di bomber, che ha l'elastico nell'orlo, i polsi e l'orlo, sono arricciati dall'elastico inserito, quindi sia i polsi che l'orlo, hanno l'elastico, qui abbiamo la stessa blusa, che abbiamo visto prima, che è la shirt 108B, taglia 36, 40, 48, due pallini su quattro, maniche ampie, con pulsini, linea morbida, e sono caratteristiche, caratteristiche di questa comoda, shirt di maglia, anche con un dolce vita leggero, allora in questo caso, come ho detto prima, possiamo eliminare, il collo alto, il dolce vita, fare una maglia, come ti ho detto prima, come possiamo vedere, le maniche sono bellissime, perché comunque, sono con questo sbuffo, e con i polsini, a me piacerebbe, farli un pochettino più corte, sempre con questo sbuffo, ma leggermente più corte, perché a me piacciono, soprattutto a tre quarti, le maniche, eventualmente, se avrò tempo di farlo, ti farò vedere, come farlo, cioè come modificare, il cartamodello, abito numero 123, tagli a 3644, due pallini su quattro, abito modellato, da gruppi di pieghe, cuciti al punto vita, sia sul davanti, che sia sul dietro, qui è proposto, in lunghezza midi, ha tutte queste, ecco, pieghe cucite, eccole qui, queste pieghe, lunghezza e midi, spollo, il collo è tondo, con nastro applicato, e qui abbiamo, giaccone numero 125, taglia 3648, due pallini su quattro, che arriva fino alla taglia 48, tessuto morbido, rendono questo modello ideale, anche nelle giornate più fredde, e poi abbiamo questa shirt, è la numero 116, taglia 3644, due pallini su quattro, in tessuto operato, effetto increspato, è un inserto triangolare, forse non si vede molto, ma nel figurino, si vede molto bene, e questo inserto triangolare, è molto molto carino, perché ci permette di farlo, per esempio, con un tessuto diverso, e le maniche sono a giro, le pensa al seno, le mani molto dritte, e questo possiamo modificare, la lunghezza delle maniche, possiamo modificare, il tipo di tessuto, che possiamo fare a contrasto, molto carino, per esempio, per una blusa da sera, è un tessuto, utilizzare un tessuto, per esempio, di colore, che ci piace, diciamo, e un tessuto, per esempio, di pizzo, per quanto riguarda la parte, sia davanti, che di dietro, questa, l'inserto triangolare, giacca numero 131, taglia 48, 56, tre pallini su quattro, taglio a camicia, per la giacca maschile, in taglio bucle, è molto pratica da indossare, e si abbina bene con i jeans, e i patologi sport, allacciatura ai polsi, con bottoni automatici, quindi, altro abbigliamento da uomo, che mi chiedete sempre, qui abbiamo, l'abito numero 107, taglia 36, 44, ed è questo che vediamo qui, ma lo vediamo anche qui, forse qui si vede anche meglio, ed è un abito, con le maniche a kimono, che si fermano sotto il gomito, larghi polsi, utilizzati in denim, a scollo tondo, ha due piccole pens, e taglio centrale, che regalano, una comoda vestibilità, giacca numero 130, taglia 48, 56, a tre palline su quattro, giacca in tweed, fodera trapuntata, che la rende molto calda, quindi da uomo, e tra l'altro, c'è anche la scuola di cucito, modello scuola di cucito, che ha pagina 83, tra l'altro, nel sito di Burda, possiamo trovare anche il tutorial, passo passo, dove ci mostra come realizzare, la giacca da uomo, cappotto, numero 124, modello che arriva fino alla taglia 48, taglia 36, 36, parte dalla 36, ha due pallini su quattro, è un'interpretazione del Montgomery, ha una linea bombata, è realizzata in ratina, è profilato con profili di pelle, e cappucce, grandi tasche applicate, regala una nota casual. Qua abbiamo la scuola di cucito, della giacca da uomo, eccola qui, tutto spiegato, e qui abbiamo invece, qualche creazione, che possiamo fare, a livello di cucito creativo, bellissimo, è l'orsetto, che qua, personalizza, con un'iniziale ricamata. Poi abbiamo l'Egg Irlanda dell'Avento, molto carina, che può essere utilizzata, sia per appenderla, e sia come centrotavola. Qui abbiamo il modello, dell'albero di Natale, in tessuto, il cuscino a stella, piacciono moltissimo queste creazioni, e che io non voglio più trattare, il cucito creativo nel mio canale, voglio concentrarmi sul cucito sartoriale, però, veramente è troppo bellino, questo rossacchiotto, mamma mia, mi piace troppo, mi piacerebbe tantissimo realizzarlo. E qua ci sono tutte le spiegazioni, di come si fa. Abbiamo sfogliato insieme, Burda Staldi, di dicembre 2023, quindi l'ultimo numero dell'anno, fammi sapere quali sono gli abiti, che ti piacerebbe realizzare, e quali sono quelli che ti sono piaciuti di più, scrivimelo nei commenti, anche semplicemente un cuoricino, se non hai voglia di scrivere niente, ma almeno mi fai sapere che sei passato, o sei passata, lasciami un bel like, condividi video nei tuoi social, in modo tale da crescere sempre di più, e più cresciamo, e più contenuti porterò nel canale, mi raccomando, fatemi pubblicità, iscrivetevi al canale, cliccando sulla campanella, e nella campanella dovete iscrivere tutte, in modo tale che ti arrivino, tutte le notifiche, dei nuovi video che verranno caricati. Io ti mando un grande bacio, sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e buon cucito!